Il tema del bacio che racconta l'amore sarà il fil rouge del Festival Puccini 2021 che sulle rive del lago Puccini dal 23 luglio al 22 agosto porta in scena l'amore con Tosca, Turandot, La Bohème e nuove composizioni ispirate al bacio. Il bacio vissuto in tutte le sue sfaccettature ed esplorato attraverso nuove composizioni. Il bacio che nel teatro musicale, così come nell'arte figurativa, nella poesia e nella letteratura è uno dei gesti più romantici, capace di esprimere senza bisogno di spiegazioni la profondità del sentimento e le sue emozioni, quel bacio che vuol dire anche amore. Il Museo del Tessuto di Prato ci presterà uno degli abiti di scena di una grande cantante lirica che esporremo durante la stagione e così come faremo delle coproduzioni con il Teatro di Livorno, l'anno prossimo, già con un'intesa già formalizzata, con il Teatro del Giglio di Lucca, ma anche avremo ospiti da noi l'Accademia della Scala di Milano, ragazzi dell'Accademia che staranno da noi una settimana e che poi avranno uno spettacolo. E questo per allargare le maglie di queste intese in vista anche delle celebrazioni cuciniane.